Ci sono tuffosi, amici, mi piace molto stare qui. La marcia in più della Ferrari, quale sarà quest'anno? La carta da giocare, le gomme, il telaio ridisegnato, il motore più tecnologico? Ah sì, tutti, la macchina, il motore, le gomme, tutte, è meglio? Ah, ok, vedremo. Abbiamo capito, la Ferrari è meglio. Senta, Mr. Burn, l'abbiamo vista entrare in cucina prima. Sì? Spendiamo due parole sulla cucina. No, no, ho ordinato una birra.